un soldato di nome ariodande tornava dalla guerra in mutande perché era stato costretto a vendere i calzoni per la gran fame e le gran privazioni percorreva un sentiero verso sera quando incontrò una strega vera buongiorno bel soldatino torni dalla guerra eh sì ed ho ancora molto da camminare prima di giungere alla mia povera casa povera dunque dunque ti piacerebbe essere ricco a tutti piacerebbe esserlo ma perché mi chiedi questo perché perché io volendo potrei darti la ricchezza solo che tu acconsentissi a quanto ti chiederò dunque ascoltami bene vedi quell'albero là internamente vuoto e ci si può calare sino in fondo io ti aiuterò con una corda appena sul fondo incontrerai un lungo sotterraneo illuminato da tre grandi potentissime lampade e vedrai di fronte a te tre porte guardate da tre cani uno più grosso dell'altro abbayeranno non importa non avere paura ti darò io questo mio crembiule stregato potrai avvicinarti il primo uscio ed aprirlo dopo aver posto il cane sul crembiule e così per gli altri due in quelle camere troverai un'infinità di monete d'oro e potrai prenderne quante ne vorrai a me porterai il lacciarino che è nell'ultima camera solo quello vuoi sì ecco ti crembiule allora scese sotterra il soldato a riodande così com'era insomma in mutande e trovò tutto quanto a puntino i cani le monete l'acciarino si riempì le tasche di monete d'oro poi tornò fuori attraverso il foro bravissimo il mio giovanotto hai il lacciarino eh dammelo dammelo su su dammelo te lo darò ma dimmi prima che cosa ne farai questo non ti interessa hai preso le monete d'oro sì ed allora dammi il mio acciarino dammelo ti sbagli vecchiaccia della malora l'acciarino mi interessa molto poi perciò me lo tengo e se non te ne vai di rancorsa adopererò ancora una volta la spada per tagliarti la testa e via vattene vattene via la strega fuggì ed ario dande senza calzoni e sempre in mutande giunse felice ad una gran città e qui iniziò è una novità una gran vita con tutto quel denaro di cui non era in verità avaro giocò ballò fece gite però un brutto giorno l'oro terminò ed il soldato ario dande si ritrovò nuovamente in mutande fu allora che pensò al lacciarino lo prese lo guardò lo strofinò un pochino e bambini non sono panzane di colpo ecco apparire un gran cane accidenti ma 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 è un acciarino magico il cane del sotterraneo sì sono il cane del sotterraneo mi hai chiamato sei il mio padrone comanda e ti obbedirò io ho bisogno di denaro molto denaro come puoi procurarmene tu ecco una borsa di monete d'oro ma è incredibile e potrò averne sempre quante ne vorrò basterà che tu me l'ordini ormai era sistemato il soldatino ed una sera strofinò l'acciarino mi hai chiamato sei il mio padrone comanda e ti obbedirò senti cane mio fedele ho saputo che il re di questo paese ha una figlia bellissima ma la tiene rinchiusa in una torre perché teme che una sì che un sortilegio si avveri e cioè che la fanciulla sposi un semplice soldato bene io vorrei che tu mi portassi qui la principessa puoi la principessa corbezzoli che splendore ma io io non credevo che fosse così bella e addormentata sembra una bambola di sogno un bacio solo un bacio aveva chiesto troppo perché il cane fatato fu dalle guardie ben presto pedinato ed esse giunsero all'abitazione del soldatino che con emozione si vide preso incatenato posto in prigione ed il re in persona gli si presentò ed accigliato così gli parlò sarai giustiziato domani nella piazza grande sono contento di annunciartelo io stesso e giunse il giorno dell'esecuzione il popolo con grande attenzione seguiva ogni gesto d'ariodande questa volta in camicia non in mutande ed il corteo al palco arrivò ed il tamburo di rullar cessò disse allora il re con molta degnazione hai da chiedere qualche cosa prima di morire straniero vorrei maestà fumare per l'ultima volta la mia pipa ed accenderla col mio vecchio acciarino sono entrambi nella mia camera d'albergo sul tavolo si vada a prendere quanto ha detto il condannato e avuto l'acciarino il soldatino lo strofinò e al cane apparso ordinò aiutatemi cani magici aiutatemi vogliono impiccarmi diversamente non poteva andare finì come potete immaginare il cane fece il vuoto intorno a sé a riodande graziato ed il re la principessa gli fece sposare e dopo molti anni egli finì anche per regnare